Bad boys per sempre. Stiamo invecchiando, Mike. È un ragazzino, un tempistello che viene a prendere mia figlia per portarla fuori. Che cazzo sei tu? Salve, signor Barnett, sono Reggie. E che ci fai qui? Sono venuto a prendere Megan. Cosa? Sono venuto a prendere Megan. Quanti anni hai? Quindici, signor Barnett. Porca puttana, ne dimostri trenta. Dammi un documento. Io non l'ho portato. Non hai portato un documento? Mettiti con la spalla e al muro, avanti. Che cazzo ti credi di essere? Credi di sapere tutto. Spider-Man del cavolo. Hai spinelli addosso? No. Fumi quella robaccia? No, signore. Hai intenzione di drogare mia figlia? Fumi quella robaccia? Negro, chi c'è alla porta? È Reggie. Il cazzo è Reggie? Ha venuto a portare fuori Megan. Che vuoi, Negro? Portare fuori vostra sua figlia. Come ti chiami? Reggie. Ho capito, non sono sordo, ti chiami Reggie. Vuoi portare fuori Megan? Sì, signor. Quanti anni hai? Quindici. Merda, Negro, io dico trenta. Lui è mai. Sai fare a botte? Sì. Sai fare a botte? Non sai fare a botte, guardati, guardati. No, voglio sapere se questo Negro... Qualcuno vuole portare fuori mia nipote? Voglio sapere se il Negro sa fare a botte. Qualcuno potrebbe darle fastidio. Se lui non sa difenderla, lei non può uscirci, no? Lui è il padrino di Megan, va bene? È stato dentro fino a ieri. Perché ora ti metti a spiattellare i fatti miei? Perché spiattellare... Ah, sarà uscito di galera e non ci voglio tornare! Non ci voglio tornare! Che ti prende, ragazzi? Ti sei messo paura? Non hai mai visto una schiaccia negra? Mike, smettila di puntargli l'armatoso. Negro, non mancarmi di rispetto davanti alla gente, capito? Va bene, metti via la pistola. Negro, certo che sei proprio uno spirungone del cazzo, sembri un po' ludacris. Fire up! No. Muoviti, Negro, te ne devi andare. Se ti becco a cazzo e ti costringo a emigrare. Se ti becco... Ehi, Mike! Ora senti, riporta a casa mia figlia alle 10 e un minuto. Se non è a casa alle 10 e un, salgo in macchina, va bene? Colpo in canna e il bersaglio è il tuo culo, bastardo. Hai capito? Sì, avanti di qualcosa, reggi. E se ci sono io, lo sai che succede? Ciao, ciao, bam, bam, Negro, ecco che cosa succede. Marcus! Oh, reggi, tesoro, ti prego scusa, il papà di Megan è quello scemo del suo amico. Sei vergine? Sì. Allora vedi di restarci perché stacera non ci scopa. Bella quella camicia rossa, mi piace, divertitevi ragazzi. Hai mai fatto l'amore con un uomo? No. Vorresti? No, signore. Ehi, buona serata tesoro. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Basta, intanto.